Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Facciamo un pochettino di pausa tecnica così i ragazzi si dissetano, stiamo al nostro posto. Intanto io, in qualità di presidente della banda musicale di Cassine, vi do un benvenuto a Cassine. Tolgo la mascherina. Per noi è un onore ospitare questa manifestazione. Quest'anno ricorre per noi il trentesimo anniversario di rifondazione della banda. Purtroppo il Covid non ci ha consentito di festeggiarlo, ma questa occasione forse è la festa migliore. Perché vedere tutti questi ragazzi, tutto questo entusiasmo di questo progetto è veramente, penso, per tutti i colleghi presidenti delle bande presenti una gioia. Una gioia perché significa che c'è un futuro per queste associazioni, un futuro ricco di soddisfazioni. Perché questi ragazzi con questi progetti, è accaduto già in passato, faranno amicizia e tra qualche anno nel gestire le loro bande avranno contatti, avranno modo di sviluppare collaborazioni. E questa è una cosa bellissima. Quindi grazie ai ragazzi da parte di tutti noi. Facciamogli ancora un applauso. Ora, mentre terminiamo la pausa, vorrei chiamare il sindaco di Cassine, Carlo Macario. Carlo, eccolo qua. Ovviamente ringrazio l'amministrazione comunale di Cassine che ci ha accolto l'invito che gli abbiamo fatto a inizio agosto di ospitare questa manifestazione. Quindi per noi è un piacere avere e ti ringraziamo ancora della collaborazione. Quindi Carlo, due parole. Grazie Fabio. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi pomeriggio. Io volevo innanzitutto portare i saluti miei personali e di tutta l'amministrazione e ringraziare, e lo faccio breve, i maestri che si sono veramente dati da fare per creare questo che vedete voi qui. Come ha già detto Fabio, speriamo che sia il futuro delle bande che non si fermi a queste manifestazioni ma proseguano nel tempo. Grazie ancora, grazie a voi ragazzi, complimenti e buon proseguimento. Grazie a tutti. Prima di riprendere e passare la parola a chi proseguirà nelle presentazioni perché stiamo facendo un po' tutto così, è anche bello così. Metterci d'accordo un secondo prima stiamo improvvisando ed è bellissimo perché le cose vengono in maniera spontanea che è la cosa migliore. Volevo così dire e ringraziare tutte le persone, gli amici della banda di Cassine che hanno lavorato da questa mattina e anche nei giorni precedenti per allestire il palco, le sedie, il furgone, l'amplificazione, insomma il rinfresco, la merenda. Insomma è stato un lavoro di squadra e grazie, grazie ragazzi che mi avete aiutato in questa settimana. Grazie. Bene. A chi tocca Sergio adesso? Ricordamelo. Mauro. Maestro Mauro Massaro, a lei lo scelgo.